allora adesso ci faccio il video così me lo salvo su youtube e tutte le volte che mi rifanno la stessa domanda ho subito pronto la risposta allora analizzatore d'antenna frequenza di in esame da un megahertz a 30 megahertz swr e impedenza pezzo di cavo di circa questo è 8 metri ok swr 1,01 e impedenza 50,3 ci sta l'errore strumentale su questa lunghezza benissimo cambiamo il cavo prendiamo un altro pezzo di cavo di queste 12 metri metto la terminazione la chiusura a 50 ohm attacco l'adattatore anche qui allora swr 1 impedenza 50 poi prendiamo un pezzo di cavo questo è quasi 20 metri quasi 20 metri sariamo chiusura si arriva allora swr 1,02 ma sempre errore strumentale e impedenza 50 quindi mi sembra chiaro che la lunghezza del cavo non c'entra niente 73